Ah, e qui arriva una mossa come 5 per Luigi, mossa che difficilmente ci si aspetta in queste posizioni, ma forse conta di poter giocare anche di 5. Sì, io mi sarei aspettato E6, molto umilmente. Ma Ciro che Ciro, che Ciro che Ciro che esci. Possiamo aspettarci di tutto, vediamo, vediamo qual è l'idea. È un giocatore travolgente. Sì, diciamo che solitamente si cerca di evitare di dare delle case così importanti all'avversario, però se ha la possibilità di giocare di 5, allora magari può avere un senso. Infatti sì, gioca di 5. Mi metto nei miei panni di allenatore, no? Se un allievo mi fa vedere in questa posizione di 5, probabilmente gli tolgo il saluto perché non... Sai cosa può fare? Questo lo dico a tutti gli allievi di Pierluigi Piscopo, se ci stanno ascoltando. Allora, voi la giocate, magari vi vedete prima qualche giocatore che l'ha giocata. E se Pierluigi vi sgrida, voi avete la partita a portata di mano e gli direte, ma no, l'ha giocata a Ciro, l'ha giocata a Ciro, l'ha giocata a Ciro, l'ha giocata, insomma, e così lo mettete in difficoltà. Grazie Maria, grazie davvero, questo è un ottimo suggerimento. Ma come si fa Pierluigi in questi casi? Raccontaci, qual è la tua strategia? Bisogna negare sempre, questa è la prima regola che si impara. No, 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 in questi casi chiaramente bisogna lasciare spazio alla creatività, no? È chiaro che noi siamo lì per insegnare, però se c'è un allievo che gioca una mossa molto brutta posizionalmente, ma perché ha un'idea, è giusto anche fargliela giocare, magari dirgli che ci sono degli inconvenienti, ma privilegiare l'aspetto creativo, almeno a me piace sempre lasciare... Fargli fare anche esperienza, no? Su quelle posizioni per capire magari sulla propria pelle quello che può accadere. Sì. Sì.